L'Italia ha fatto comodo nel dopoguerra negare questa presenza, la presenza della Repubblica Sociale Italiana perché era una presenza che ci ricordava il fascismo che ci ricordava anche adesioni al fascismo consensi anche allargati ci ricordava anche il fatto che noi abbiamo perduto la guerra e quindi è un'esperienza di questa natura e quindi era più facile per tutti accantonarla come esperienza era anche più facile dire erano i tedeschi che decidevano tutto questi non decidevano niente e così via allora è una situazione paradossale nel senso che è vero che erano i tedeschi decidevano loro se sgombare il territorio quanto territorio dovevano gestirsi vicino al fronte di guerra quindi rispetto alla linea Gustav prima rispetto alla linea gotica poi quindi è vero che i tedeschi sono i veri dominatori però questa sorta di Stato, non Stato questo governo che vuole essere uno Stato ha avuto un peso non irrilevante nella nostra storia ha avuto un peso non irrilevante soprattutto alzando il livello della violenza quando hai dei morti degli impiccati dei massacrati delle case incendiate finire incendiate cioè questi comportamenti non ci si può restare a dire era uno Stato subalterno ai tedeschi questi fascisti erano subalterni indubbiamente ai tedeschi che se i tedeschi gli dicevano abbiamo bisogno di 40 uomini che facciano il palo in quel settore loro andavano e lo facevano ma lo facevano perché? perché erano convinti e la propaganda insisteva su questo che i tedeschi facessero la guerra per loro e quindi che i tedeschi erano veramente gli alleati non erano gli occupanti per loro i tedeschi erano degli alleati dei veri alleati ai quali ci si doveva affidare e siccome erano loro che combattevano erano loro che facevano la guerra tutto quello che chiedevano bisognava darglielo e questo lo dice sia Mussolini lo dice Pavolini e lo ripetono loro sulla loro stampa ovunque quindi loro sono indubbiamente subalterni ma sono subalterni perché ritengono che quella sia la loro guerra e quindi per quella loro guerra loro possono incendiare possono andare a massacrare i fratelli cervi e possono distruggere il podere dei cervi c'è l'ideologia che li muove qui si dice anzi il nostro fascismo è il primo fascismo i fascisti e i fascisti che intervengono quello nazista è successivo al nostro e quindi noi dobbiamo difendere a maggior ragione il nostro fascismo quindi noi inseriamo in quello che poteva essere un collaborazionismo di Stato un governo collaborazionista infatti dentro l'RSI c'è chi dirà perché non facciamo un governo collaborazionista e basta e basta invece no, deve essere un governo fascista il fascismo rappresenta l'unica ideologia di quell'esperienza quindi repubblica necessaria repubblica fascista e infatti è una repubblica fascista bisogna definirla così a capo resta Mussolini Mussolini viene contestato ma Mussolini non diciamo anche se viene contestato e lo sa perché lo sa benissimo di essere contestato però non ci dimette poteva dimettersi Mussolini nell'estate del 44 dopo quella violenza a tutto campo le stragi naziste nel centro Italia Mussolini poteva dimettersi direi io non ci sto a questo tipo di e invece no e invece resta crea le brigate nere dice il partito deve avere solo compiti militari e quindi eliminiamo tutti i compiti per assistenza tutti i compiti non rilevanti in questa fase non sono rilevanti perché tutto deve essere messo a sconfiggere la resistenza e i suoi complici e quindi da mandato al suo partito di una lotta spietata contro la resistenza e i complici che sono chi può essere chiunque il complice dunque non è vero niente cioè questo discorso della da un lato che se è uno stato fantasma la Repubblica Sociale perché non può prendere decisioni di un certo tipo però è una presenza non fantasma è una presenza reale con questi suoi uomini con questi gruppi con questi è una presenza reale e in più non è assolutamente necessaria perché appunto se un governo collaborazionista poteva essere creato e qualcuno lo chiede e Mussolini lo sa nell'estate c'è chi lo chiede il governo lo stesso concetto pettinato che è il direttore del quotidiano La Stampa di Torino scriverà molto meglio un governo dove noi non ci stiamo dentro insomma è gestito direttamente dai tedeschi molto meglio perché semmai non incappiamo in vendette future quindi c'è chi lo scrive non è che non ci sia chi ragiona in questa direzione invece Mussolini vuole stare lì vuole stare lì fino alla fine Mussolini è attivissimo Mussolini non vuole essere scalzato da nessuno è una questione di prestigio personale è una questione poi per vari motivi ma è un dubbio che lui agisca e agisca lucidissimamente al fine di non essere scalzato e quindi lui vuole stare lì e finché c'è lui ci deve essere un partito fascista perché lui si collega al fascismo il fascismo è la sua creatura lui senza il fascismo non è nessuno quindi il fascismo non si può eliminarlo finché c'è Mussolini un altro con un altro si poteva eliminare il fascismo infatti alcuni dentro compreso Junio e Valerchio Borghese della decima massa avrebbe voluto togliere il partito e quindi andare a un governo organicista di destra cioè non è mica quello però senza il fascismo in posizione dominante ma finché c'è Mussolini il fascismo è ineliminabile perché dire fascismo e dire Mussolini per Mussolini sono la stessa identica cosa la memorialistica le ricostruzioni scritte dai fascisti presenti attivi nella Repubblica sociale uomini più d'ordine che non partecipi diciamo dei gruppi violenti hanno teso a dare l'immagine di appunto di un Mussolini teso al bene non violento che era contro la violenza e che tutte le diciamo tutta la responsabilità della violenza ricadeva specialmente su Pavolini il segretario del partito e che diventerà comandante delle brigate generale delle brigate nere oppure su Buffarini guidi il ministro dell'interno quindi tutte le responsabilità tutte le cattiverie tutto quello che non ha funzionato alla fine responsabilità o di Pavolini o di Buffarini guidi non mai di Mussolini che Mussolini sarebbe stato addirittura contrario alla costruzione e alla creazione delle brigate nere il punto è che quando si vanno a vedere le carte le si analizzano i documenti interni si confrontano si confrontano un indizio con un altro emerge con assoluta evidenza che è Mussolini che vuole costruire creare le brigade nere è d'accordo con Pavolini certo non è che Pavolini fosse non contento d'accordo ma è Mussolini allora perché uno si può chiedere questi che hanno ricostruito queste vicende nell'immediato nella seconda metà anni 40 quindi subito poco dopo la fine dell'esperienza hanno voluto dare questa immagine la risposta che io mi sono data è che le brigade nere essendo nate per la lotta con lo scopo precifico della lotta contro la resistenza e contro i complici quindi per la guerra civile era un corpo che andava glissato cioè bisognava metterlo come estraneo alla repubblica sociale ed estraneo tanto più a Mussolini mentre gli altri corpi sarebbero stati creati che poi non è vero che avvenga però diciamo lo scopo era quello della guerra contro il nemico esterno quindi contro le truppe anglo-americane e non invece con lo scopo della guerra civile quindi della guerra all'interno da una parte anche altri gruppi sono gruppi violenti e fanno razzie ammassano persone fanno spari sparacchiano di qua di là spaventando le persone e così via dominando il territorio come meglio ritengono dall'altra è per non far ricadere appunto su Mussolini questa responsabilità e anche perché Brigate Nere è il partito fascista gli altri gruppi potrebbero essere lo Stato sono loro che vogliono separare Stato e partito il partito è male il partito lo Stato è lo Stato come se Mussolini non fosse fascista non avesse voluto creare le Brigate Nere ma loro negano che lui ha voluto creare le Brigate Nere perché ciò avrebbe costituito un vulnus un vulnus in questa immagine che hanno voluto costruire di un Mussolini che soffre di un Mussolini che ha torto collo accetta certe cose un Mussolini dilaniato sia per il processo di Verona o per qua il dramma familiare hanno creato tutto un fumo attorno alla figura di Mussolini cercando di allontanare dal suo capo il fascismo e appunto le Brigate Nere non è possibile che Mussolini come dicevo prima faccia senza fascismo non è possibile Mussolini lo dice lui stesso e dall'altro le Brigate Nere perché è il partito fascista che diventa partito armato ma è il partito fascista essendoci fra di loro tutte queste distinzioni fra chi voleva rinnovare il vecchio squadrista quello invece più nazionalista quell'altro eccetera eccetera Mussolini era quello che li ricompattava tutti salvaguardare la figura di Mussolini significava salvare se stessi in qualche modo tutte le anime Mussolini era un criminale era però un uomo che lavorava tantissimo qui cerca di inventarsi tutte queste cose nei mesi dal settembre del 43 fino alla alla fine di aprile del 45 cerca di inventarsi una cosa un'altra cosa per stare a galla per emergere e per far sì che la guerra duri il più a lungo possibile perché è convinto che solo se la guerra dura a lungo lui potrà forse riemergere per contare ancora a livello politico tant'è vero che quando il 25 aprile va da Schuster il cardinal Schuster di Milano in Arcivescovado poi cosa è che fa cioè resta malissimo quando sa che i tedeschi hanno trattato perché lui era convinto che i tedeschi non trattassero con la resistenza con gli angloamericani e quindi lui poteva giocare su questo scarto sul fatto che Hitler non trattava i tedeschi non trattavano e lui poteva dire io sono quello che fa da pacere nel momento finale e quindi riemergere in qualche modo sulla scena politica questa è una mia ipotesi che ha un senso è un uomo attivissimo non è un uomo che non sia attivo e che non agisca poi è un criminale ma è un altro conto che è un uomo